buongiorno a tutti sono il mitico streaming a 146 e benvenuti in una nuova live con Fortnite e benvenuti in una nuova live con il video si porta si fa la soglia della sigaretta mettete il cuore nero campanina nera su Twitch Michi3100 Michele su Youtube iscrivetevi mettete anche mi piace su tutti i video quelli che guardate e iscrivetevi naturalmente vanno guardare i video suonare i video help usare i video suonare i video andiamo a fare il copyright il nostro corso gratuito Grazie a tutti. 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 a tutti.